Una lite degenera nel sangue nelle strade di Tavuglia, dove ieri sera è stato ucciso con una coltellata al cuore Dritanidrizi, 37 anni, albanese, residente a Riccione. L'omicidio si è consumato ieri attorno alle 22 davanti ad una palazzina di via San Giovanni, angolo via Nenni. Qui Dritanidrizi si sarebbe recato ieri sera assieme a due connazionali per reclamare un credito di 5.000 euro da un'altra famiglia albanese, residente appunto nell'abitazione tavugliese da circa un anno, credito vantato per dei presunti lavori effettuati. Si sarebbe dunque creata una violenta collutazione fra sei persone armate di bastoni e spranghe e, secondo la dinamica in fase di ricostruzione, uno dei residenti sarebbe stato colpito alla testa e qualcuno avrebbe reagito con un coltello pugnalando i drizzi. Tre coltellate, una alla milza, una al torace e una fatale al cuore. Le tracce di sangue sull'asfalto ricordano la corsa disperata all'ospedale di Cattolica dove Dritanidrizi è morto per sciocche emorragico. Indagano sull'accaduto i carabinieri di Pesaro e Riccione in un'operazione coordinata dalla procura di Pesaro. Si cerca il colpevole fra le persone coinvolte nell'episodio, alcune sarebbero gravate da precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Al momento non è stato ancora formalizzato nessun arresto. Intanto altre tre persone coinvolte nella rissa sono in ospedale dopo aver riportato ferite giudicate e guaribili fino a 40 giorni. I carabinieri stanno procedendo per le ipotesi di reato di omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi. Carabinieri che questa mattina hanno dovuto presidiare l'obitorio di Riccione di fronte ad una massa di parenti e amici di Drizzi ha corso in vano per vedere la salma che resta oggetto di indagine.